Juventus-Ronaldo è fatta, ha trovato l'accordo alle 18.50 e l'ora del comunicato della Juventus. Cristiano è un giocatore della Juventus. La Juventus è già in vantaggio con il gol di Sami Chiedira. Sblocca subito, squadro campione in carica con la gira. Più all'angolo, palla che arriva sul primo palo. La deviazione vincente di Borucci per il gol del 2-2. E' zulta l'ex milanista. Juventus pareggia con il gol. Alessandro, una pittaria, è troppo sinistra. La mette in mezzo a Bernardeschi! Federico Bernardeschi al 93.00 e incontra la Juventus. Sla zompata di Bernardeschi. Mandato in campo da Allegri. La grande giocata di Alessandro con il piatto. Pjanic colcia! Un super gol di Miralem Pjanic per l'1-0 della Juventus. Destro bellissimo di Pjanic. Muove Cansello, servito. E vuole il controllo Cansello. Mette in mezzo per Ronaldo. Stracoscia poi Mandzukic! Mario Mandzukic per il 2-0 della Juventus. Il gol della tranquillità. Non riesce a segnare sotto porta CRT. Molucchi gira per Quadrado. Respirando il Parma. E dalla cross quadrada. Succare Mandzukic in pallo. Mandzukic! Mario Mandzukic porta subito. In vantaggio la Juventus. Dopo aver colpito la Lazio segna anche al Tartini. Il gol del Truato. Con fortuna qui nel... Riesa poi. Va da Mandzukic con il tacco. Una delizia per Matuidi! Che spacca la porta. Sul primo palo. segna Blesmo a Tudì. La Juventus torna davanti con un'azione spettacolare. La bandierina prova a coordinarsi. Bonucci! Autopalo! E Ronaldo al cinquantesimo di Juve Sassuolo. Trova il suo primo gol in Serie A team. Ci ha provato ancora Sassuolo a Parse. Douglas Costa tocca benissimo. Il suo primo pallone. Si butta dentro la Juve con tutti gli effettivi. Emre Can per Ronaldo. Che va col sinistro! Ronaldo! Due volte Ronaldo! Due a zero Juve! Si è sbloccato e ora diventa difficile fermarlo. Si mette proprio con la conclusione violenta. Occhio a Pjanic. Occhio a Pjanic. Anche lui murato. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Con un'altra griffa! Dopo tanti tentativi a vuoto! Risolve i problemi della Juve! All'ottanta Juve! Attenzione a Pjanic. Qui errore. Ancora una volta abbastanza grave da parte del portoghese. Pjanic recupera. Butta dentro per Bernardeschi. Che controlla la grande. Bernardeschi. Conclusione! E due a zero! Al novantaquattresimo. Chiude i conti la Juventus. Ronaldo Bernardeschi. Non si ferma la Panda Allegri. Quasi sui titoli di coda del match. Dybala. Palla per Matuidi. Skorupski. Dybala. E la palla in rete. Si sblocca Paolo Dybala. Come il 5 maggio scorso. Ancora il Bologna. E il suo talismano porta fortuna. Quinto gol in carriera. 1-0 Juve. Sessantanovesimo sigillo in... Arriva il cross profondo verso Ronaldo. Da sottomisura. Poi Matuidi che va a calciare. Traversa e gol. Raddoppio bianconero. Dopo 16 minuti. E già 2-0. Con il secondo gol in campionato di Matuidi. Il quinto in carriera. In Serie A Team. Mi rompe ancora Emre Can. Vorrebbe andare sul lato di Cristiano Ronaldo. Favorito dall'errore di Yuzai. Ancora Cristiano Ronaldo. Buona la finta. Poi il cross morbido per Matukic. Matukic. 1-1. Mario Matukic. Al 26esimo. L'assistema per la Juve. Esce a Torino. In questo big match. Di Bala. Che scappa via. Resiste Di Bala. Vince il contrasto. Lo aiuta poi Cristiano Ronaldo. Che apre il destro. Stampa il palo. Matukic. Il sorpasso della Juve. Ancora Mario Matukic. 26. Bernardeschi. Ronaldo. Arrivamo Nucci. Sulla linea di porta. 3-1. Chiude i conti. Leonardo Bonucci. Con il primo gol. Si muove Cancelo in posizione. Dedicata regolare. Cross dentro. E colpo di testa. Di Rodrigo Ventancur. Che al 33esimo. Sblocca. Udinese Juventus. Ha avviato lui l'azione. Non riesce più a ripartire. Altro pallone. Cacciato dentro l'area di rigore. Contro Steykong. Provare a limitare Manjokic. Che tocca. Per Ronaldo. Che gol sinistro. Passa il coscoffette. Eccolo. Il sigillo del campione. Eccolo il gol. Di Cristiano Ronaldo. Vuole tenere il pallone in gioco. Cerca un altro Dreaming. Passa su due versari il portoghese. Cancelo. Cancelo. Conclusione deviata. Poi Radu pasticcia. E Ronaldo. Sblocca Juventus Genoa. Al 18esimo. Con il quinto. Centro. In Serie A Team. E' andato in tilt il sistema difensivo del Genoa. Su quella conclusione di Cancelo. Che sporcata. Sporcata. Pazzo Ronaldo con il testro. Cristiano Ronaldo. Uno a uno. Il pareggio della Juventus. Cristiano Ronaldo. Vince un ritallo. E poi serve Ronaldo. Ronaldo ha spazio per caricare il testro. Cristiano Ronaldo. Ripalta la partita. Due a uno. Juventus al Castellani. Controllo di Cancelo. Palla per Di Bala. Posizione buona. I 16. Cerca lo spazio. La frenata. La mette sul dentro. Scivola. Ma la palla va comunque in rete. Il vantaggio Juventus. Pronti. Via. E di nuovo Di Bala Masch. Juve subito in vantaggio. La fase offensiva della Juve. Il tocco per Douglas Costa che si è spostato a sinistra. Palla in mezzo. La deviazione di Brada Rich. E la Juve di nuovo davanti. Deviazione. Che becca al porto. Il contropiede Juve. Cristiano Ronaldo. Può percorrere l'autostrada. Due contro uno. Faragol su di lui. Lo scarico. Per il 3 a 1. Che chiude la partita. Buon quadrato. Va a partire il cross. Sul secondo paolo. Mangiukic. Mario Mangiukic. Dopo 8 minuti. Sblocca la sfida. La Juve in vantaggio. Gran cross. Occhio a Canzero. Tanto spazio. Penso alla conclusione. Va sul lato corto. Canzero. Donnarumma. CR7. Trova il 2 a 0. Al 36esimo. Nella ripresa. Probabilmente. Chiude il match. E 2 a 0. San Siro. Cristiano Ronaldo. Che trova il gol numero 8. Vabbiani c'è a cercare. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tutto buono. 1 a 0. Juve. Arriva Douglas Costa. Douglas Costa. Non inse Mangiukic. Deve solo spingerla in porta. E 2 a 0. La Juve. La firma. Di Mario Mangiukic. Superhero.